Piano strutturale stavolta è la volta buona. Inizierà infatti ufficialmente mercoledì 8 ottobre il procedimento che dovrebbe portare entro l'anno all'approvazione del nuovo strumento urbanistico da parte del comune di Lucca. Un procedimento che sarà partecipato anche dai cittadini cui è rivolto l'appuntamento fissato alla casa del Boia. Saranno i professionisti che si sono occupati della relazione di avvio del nuovo piano strutturale, Fabrizio Cinquini e Gilberto Bedini, a illustrare finalità e obiettivi tecnici che guardano al futuro dell'urbanistica in città. La parte politica sarà invece affidata al sindaco Alessandro Tambellini, all'assessore all'urbanistica Serena Mammini e al responsabile della partecipazione Antonio Sichi che verrà accompagnato anche dal garante della comunicazione della regione toscana Massimo Morisi e dalla facilitatrice del procedimento Maria Rosaria Tartarico. Un modo quello che è il convegno dibattito di mercoledì 8 ottobre per permettere ai cittadini, così dichiara il comune, di acquisire maggiore consapevolezza del proprio territorio come patrimonio collettivo e per contribuire attivamente alla definizione delle regole per il suo sviluppo. Un modo insomma per stabilire un rapporto di reciproca fiducia fra cittadini e amministrazione. Se poi sarà così o meno lo potrà dire soltanto il prosieguo del procedimento, la serie di presentazioni pubbliche del piano e il lavoro dei tecnici, ma intanto un passo faticoso in ritardo rispetto alle previsioni è stato fatto, con l'obiettivo di rilanciare anche concettualmente l'urbanistica lucchese e il rapporto fra sviluppo e territorio.